Ciao, oggi vorrei spiegarvi che cos'è Agenzia Amore.it Franchising e chi è un consulente di Agenzia Amore. Agenzia Amore è un franchising ed è un'opportunità di aprire facilmente l'attività di agenzia per single online e guadagnare da subito con un costo di impianto iniziale basso. È un lavoro veramente per tutti, potrebbe andare bene per le donne con figli a casa, per le persone che sono già in pensione o per chi cerca semplicemente un guadagno extra. Un lavoro veramente in smart working, autonomo, da casa, da dove vuoi, senza vincoli e limiti di tempo. Che cosa fa un consulente di Agenzia Amore? Il consulente affiliato esegue la consulenza al cliente e lo registra, vendendo il servizio per i single. Dopodiché effetto la ricerca dell'anima gemella. Gli strumenti di lavoro sono semplicissimi, un telefono, un mini computer e il nostro sito gestionale. Il guadagno per il consulente affiliato sarà la somma dei servizi venduti ai single. I nostri migliori collaboratori portano a casa 3.000 euro al mese, i peggiori sui 1.000 euro al mese. A disposizione dei nostri affiliati tutti i materiali di formazione e informativi, un forte team di assistenza, i corsi formativi live ogni mese nella forma online conferenza. Per partire come consulente affiliato, non serve l'ufficio e non serve nemmeno l'autorizzazione del municipio o questura. Il tipo di lavoro è di consulente sentimentale alla persona. Esiste in Italia un codice di attività proprio per questo genere, da non confondere con agenzia matrimoniale con ufficio, dove in questo caso servono licenze precise. Non è previsto che il consulente incontri dal vivo nessuno dei clienti. Quest'attività non lo prevede, è un servizio online e al telefono, comodamente da casa in smart working. In poco più di tre anni, oltre i 100 affiliati hanno iniziato con noi questa attività da casa. Per aderire è semplicissimo, basta cliccare nel link qui sotto, lasciando la propria email e i dati, entrerete poi in contatto con il nostro team e riceverete tutte le risposte alle vostre eventuali domande. A presto!